Stamattina siamo davanti all'Esselunga di via Giorgio Washington, siamo qui insieme ai compagni della Flaica Cube per informare i lavoratori della grande distribuzione che è in atto la costituzione di un coordinamento tra tutti i lavoratori della grande distribuzione non soltanto di Esselunga perché il coordinamento ha lo scopo di far crescere la consapevolezza dei propri diritti e dei propri mezzi ai lavoratori della grande distribuzione che pensano che i loro problemi li risolvano i padroni o al massimo CGL e Cisda Will che non passano giornate se non al tavolo delle trattative a firmare accordi e contratti a ribasso insieme a loro confratelli in feder distribuzione, cioè i confratelli delle altre aziende della grande distribuzione a cercare di togliere tutti i diritti sia i diritti sociali che quelli del mondo del lavoro che ci siamo portati a casa con le lotte sindacali, con le lotte sociali dal 45 ad oggi e che negli ultimi 35-40 anni ci stanno togliendo pezzo per pezzo anche approfittando della poca unità, della poca unione tra i lavoratori, dimostreremo che ci sono dei lavoratori che hanno addirittura occupato le proprie fabbriche come la razional di massa, non hanno aspettato che i padroni li buttassero fuori, delocalizzassero la fabbrica in Polonia ma sono bastati 24 lavoratori a occupare la fabbrica e a portare avanti la produzione, dimostrando a tutti che i lavoratori quando sono uniti e quando sono consapevoli dei propri diritti possono addirittura arrivare a prendersi la fabbrica, di fatto applicando la lettera, la seconda parte dell'articolo 41 della Costituzione e questa è la vera applicazione della Costituzione italiana, per cui oggi anche i clienti oggi saranno qua, saremo qua anche per informare i clienti che saranno informati che sul fatto che il welfare aziendale, cioè le pensioni private e i fondi sanitari privati non faranno altro che scardinare anche il sistema pensionistico, anche dei pensionati già in pensione, perché più lavoratori precari, meno soldi nelle casse dell'Inps, vuol dire che le pensioni anche dei già pensionati saranno ancora decurtate, saranno ancora più basse, per cui la lotta dei lavoratori non solo della grande distribuzione è anche una lotta delle persone, anche dei pensionati come succedeva negli anni 70, per cui se vogliono sapere di più che cosa sta succedendo con i contratti e con la privatizzazione grazie all'inserimento del welfare aziendale al posto del salario diretto in busta paga di tutti i lavoratori possono venire qua a prendere il volantino, informarsi, parlare con noi che siamo qui davanti per informare i lavoratori non solo su quello che succede all'interno di Esselunga, ma in tutta la grande distribuzione nel mondo del lavoro, passi pure davanti, non c'è problema